Si è svolta l'altra domenica al Duomo di San Nicolò di Motta di Livenza la visita guidata degli studenti dell'Isis Antonio Scarpa di Motta di Livenza nell'ambito della manifestazione Viaggio nel Sacro tra Piave e Livenza, promossa dall'Istituto Diocesano Beato Toniolo che ha visto l'apertura di dieci chiese nel territorio compreso tra Motta e Oderzo lo scopo di far conoscere il patrimonio in esso contenuto. Ad aprire la visita al Duomo è stata la straordinaria storia del Cardinale Girolamo Aleandro indiscusso protagonista della chiesa del Cinquecento. Gli studenti dell'Isis Antonio Scarpa hanno effettuato un'attività di ricerca con l'obiettivo di far conoscere e rendere fruibile il patrimonio culturale nella consapevolezza che questo patrimonio sia un elemento fondamentale del territorio, della comunità, del paese nel suo insieme, cuore pulsante dell'identità e della memoria collettiva. Gli allievi dell'Isis Antonio Scarpa si sono impegnati oltre orario delle lezioni ad approfondire la storia della terra e hanno creato un percorso volto a far conoscere i segni del tempo e degli uomini ancora oggi visibili a Motta di Livenza. I segni oggetto di studio da parte degli studenti dello Scarpa sono state le chiese presenti nel territorio comunale, la Basilica della Madonna dei Miracoli e il Duomo di San Nicolò, beni straordinari che narrano la storia della nostra terra e al tempo stesso costituiscono anche la bellezza dei nostri luoghi. Gli studenti oggi si sentono i custodi di questi tesori. Educare alla conoscenza del patrimonio culturale significa infatti anche contribuire alla formazione di comportamenti fortemente connotati in senso civico, miranti a garantire la tutela partecipata e la salvaguardia del bene culturale come patrimonio della collettività. Il progetto dell'Istituto Scarpa avviato ancora nel 2015-2016 viene impegnati oltre 20 studenti che frequentano le classi dalla seconda alla quinta dei diversi indirizzi liceali e 5 ex allievi dello Scarpa che attualmente sono all'università. Diversi gli appuntamenti offerti al pubblico in questi anni di attività come le visite guidate al sabato pomeriggio rivolte alla cittadinanza, i percorsi mirati per gli alunni delle scuole del territorio, la presentazione delle principali opere in lingua inglese in occasione della visita dei paesi partecipanti al progetto Erasmus Plus nel gennaio del 2017. Continua intenso anche per l'anno scolastico in corso il lavoro di ricerca a testimonianza di quanto il territorio custodisca in termini di patrimonio culturale.